Buonasera, buonanotte cari amici di Rai1, cinematografo, il cinema in televisione, i film da vedere, i film della settimana, i critici che hanno visto i film, i protagonisti delle pellicole e il pubblico che è andato a vedere i film. Tutto questo per quanto riguarda cinematografa, ma lo sapete, in questa settimana è cominciato il Festival di Cannes numero 70. Tania, lei guarda molto interessata, quello che arriva attraverso le parole delle nostre amiche, è mai stata a Cannes? Tanto poi parleremo di Alcolista, che è un film che la vede protagonista insieme a tanti altri. Io non sono mai stata a Cannes per sfortuna e spero tanto di poterci andare in veste di attrice, quindi speriamo bene. Si vuole presentare al pubblico? Io sono un'attrice, una giovane attrice che sto provando a fare questo mestiere da qualche anno e ho avuto la fortuna di poter prendere parte a questo film Alcolista che per il momento è al cinema. Ne parleremo tra poco. Tania arriva da dove? Dalla Sicilia, sono siciliana. Cognome? Bambaci. E' contenta di fare questo mestiere o già si è pentita? No, no, ancora sono nella fase di contentezza. Alcolista avrà convinto Anselma Dell'Olio, intanto ha convinto sicuramente una delle protagoniste, Tania Bambaci, dico bene? Sì, è un film low budget prodotto dalla Dea Film, è un film a cui tutte le persone che hanno lavorato a questo prodotto ci hanno tenuto particolarmente. Il mio ruolo è quello di Anna, una giovane ragazza che lavora in una clinica per persone affette da dipendenze alcoliche. Sono un'amica della protagonista Claire, che è una ragazza che entrerà nella vita di Daniel, il protagonista interpretato da Brett Roberts, con presunzione per cercare di aiutarlo, in quanto Daniel avrà una vita abbastanza turbolente e sofferente. Anselma? Il regista Luca Spivetto è un italo argentino che viene dall'horror, che ne fa ben uso in questo thriller psicologico, ben venga, perché l'Italia non ne fa, non abbiamo questo genere normalmente. Gli attori, il meglio di tutti è la Gabriella Wright, è bellissima la nostra, Tania Bambaci, però ecco, la cosa migliore di questo film sono le atmosfere e la troupe, che è tutta italiana. Abbiamo delle eccellenze che sono costretti ad andare a Buffalo a fare un film per l'Italia. Sentiamo il pubblico, alcolista, uscita, sala, ecco. L'attivo numero 17, ho fallito ancora, come da manuale, ho rispettato gli orari in pieno. Non era ancora giorno quando ha iniziato l'appostamento, ma qualcosa non ha funzionato. Meglio non dire, non fare commenti, è allucinante, scioccante veramente. Non pensavo fosse proprio così crudo. Insomma, mi ha sconvolto un pochino, però non proprio malaccio. Altro confronto su questo film, Milano e Napoli. Massimo Bertarelli e Francesco Puma. Massimo. Ma io, tranne la bellezza di Tania Bambaccio, ho capito veramente poco. Mi sembra un film sgangheratissimo, mi viene quasi il dubbio che il protagonista beva per dimenticare un film del genere. Perché lei si è distratto, affascinato dalla bellezza della protagonista. Forse è questa la chiave di lettura, Bertarelli. Eh, può essere, può essere, sì, sì. Francesco Puma. Una spiegazione plausibile. No, invece io non sono d'accordo. L'ho trovato un thriller psicologico claustrofrobico, nerissimo, angosciante, allucinato, molto ben scritto. E questo Luca Spavetto, che unito all'argentino, ha comunque veramente del talento da vendere. Lo vorrei vedere in altre prove, dopo questo film, insomma. Lo aspetto al barco, questo è il suo secondo film. Mi è piaciuto. Allora, Anselmo di Tania, il libro della sua vita. Oriana Fallaci, lettere a un bambino mai nato. Piera D'Agliesco. 30, dal cinema ai libri. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Perché lo vuole sapere? Un saluto cinematografico.